Usa questa strategia per farlo impazzire, l'unica strategia che puoi utilizzare è quella che ti dirò in questo video Farai impazzire tutti gli uomini in generale, li manderai un po' tutti quanti al manicomio Chi sono io Federico Picchianti, you already know, lo sai già, vai in descrizione, guarda i video, guarda le opzioni di consulenza e vieni in call con me se hai bisogno Anyway, per far impazzire davvero un uomo e quindi l'unica strategia che funziona per farlo andare fuori di testa Unica, ok? Unica strategia è quella di utilizzare un forte mashup, un forte mix, una forte routine alternata Significa che tutte le cose che fai, tutto quello che succede, accade fra di voi non dovrà essere qualcosa di previsto E non vuoi che sia previsto perché in realtà è così che si seducono gli uomini Le persone, gli esseri umani in generale rispondono a stimoli alternati, non rispondono a stimoli previsti Quindi lui non risponderà mai a situazioni o contesti dove tu sei sempre la stessa persona o dove fai sempre la stessa cosa Vediamo quindi dov'è, in quali sfere questa cosa la puoi applicare e dov'è che va a inficiare o a influenzare Quindi per esempio, prima sfera, la parte virtuale, la parte dei messaggi, tecniche base per messaggi Messaggi, ok Una volta ogni suo messaggio rispondi e non vai in overdose, quindi radio, ratio, 1-1 Questo significa che lui ti manda un messaggio e tu gli mandi un messaggio Lui ti manda un messaggio e tu gli mandi un messaggio Non sta scritto a nessuna parte che lui ti manda un messaggio e tu gli mandi due o tre Se non addirittura 1-0-5, cioè lui ti manda due messaggi e tu gli ne mandi uno, ok? Perché questo? Quindi 2-1-1-1 Perché questo? Perché in realtà così preservi il tuo valore, il tuo standard con un uomo Preservi un contesto dove tu appari come una donna funzionale e come una donna di valore Non preserverai mai, ok, il tuo valore nei confronti di un uomo Se ogni volta sei sempre lì disposta e disponibile a rispondere e sei sempre presente per messaggi Per farlo andare veramente fuori di testa Tu vuoi essere colei che non si riesce a capire che cazzo vuole dalla vita Se tu invece sei la donna che rappresenta una sorta di sicurezza, porto troppo sicuro, non va bene Ah ma quindi io devo rappresentare il porto insicuro, eccetera Sì, ma non il porto negativo Cioè nel senso, molte donne fraintendono questo che dico io Con un atteggiamento tossico Quindi pensano che sia giusto fare e applicare un atteggiamento tossico Questo atteggiamento tossico in realtà no, non va, non è funzionale Perché? Perché essere estremamente tossica crea un imprinting negativo Ma alternare la tua presenza invece crea una necessità Ok? Fa venire voglia all'altra persona di averti nella sua vita Gli fa venire voglia di desiderarti, di sentirti, di averti in generale Quindi no, ok? Non serve che tu sei super tossica quando stai con lui Non che tu non debba esserlo, ok? Quindi disfunzionale Ogni tanto inseriscilo Inserisci ogni tanto un cambio Ci sta Un cambio di rapporto Un cambio di previsione Va bene O magari proprio fai apposta a incazzarti con lui Ci può stare Però la disfunzione la vuoi portare nel virtuale Se proprio la vuoi portare Quindi per fare impazzire un uomo è fuori dai messaggi È fuori da quando non state insieme È nei messaggi Che tu ti mostri disfunzionale E non in contesti dove per esempio Non so Stai con lui Quando stai con lui Ok? Per farlo impazzire Vuoi creare un'isola felice Cioè vuoi creare una sorta di bolla strafelice Dove stando insieme a lui Semplicemente lui Torna indietro Pensa per esempio al passato E dice Ah ok Con lei sto veramente bene Quando pensa al passato Non deve pensare Quando sto con lei Sto male Ma deve pensare Al passato il positivo E nel presente vivere il negativo Cioè Nel passato penserà Con lei Stavo davvero bene l'altro giorno Adesso non sto con lei E nel presente Non deve avere la soddisfazione Di saperti sempre Di sapere ogni cosa di te Sennò due palle così Cioè ci scocciamo Punto Se vuoi farlo impazzire davvero Questo è il trucco Cioè Mantenere un'alternanza Di questo calibro Che consente a lui di pensare Che tu non sia garantito In nessun modo Che non ci siano garanzie Nel rapporto con te Speciale nei primi sei mesi I primi dieci mesi Non ci sono garanzie Non esistono garanzie Non avete garanzie Non ci devono essere Né nel rapporto statico Né nel rapporto fra amanti Perché cazzo Pensi di voler inserire garanzie Ogni volta Quando il rapporto è disfunzionale Proprio a causa delle garanzie La gente non capisce Che il rapporto disfunzionale Nasce e si vedete Significa Quando tu Sei garantita Ok Agli umani Non piace sapere Che qualcosa è previsto È sempre così Personalmente Nei miei rapporti passati Quando io avevo troppe garanzie Diventavo disfunzionale Perché non mi veniva nemmeno voglia Di stare con quella persona Ok E non posso dire troppo Perché sennò poi mi bannano Però non avevo proprio voglia Di starci Non avevo voglia di frequentarla Perché era troppo prevista Era sempre là Era sempre così Sempre Sempre C'era sempre C'era sempre Ma io come posso fare? Ma come posso interagire Con una persona che c'è sempre? Come posso pensare Di non annoiarmi E non stufarmi Con una persona che è sempre presente? Questo è il punto Devi essere in grado Nel virtuale Di inserire Un'assenza Prima cosa Devi essere in grado Poi di inserire Anche nel comportamentale Un'assenza Ovvero La fisicità con lui Separala Dividila A volte ci sei A volte non ci sei A volte ci vai A volte non ci vai A volte si fa solo Un'introduzione fisica A volte l'introduzione Diventa un riassunto A volte il riassunto Diventa un tema Ok Quindi a volte ti spingi Oltre a livello fisico E a volte no Standard Questo è fare impazzire un uomo Non farti capire Che succede Non farti capire Di che cosa Si tratta Per gli aficionados La fuori Per le aficionados Che mi dicono Ah ma quindi Anche nel rapporto stabile Sì Anche nel rapporto stabile Anche nel rapporto stabile Vuoi Far sì che Ci sia un cambio Ok Di quello che è previsto Che fate insieme Cambio del tipo Ok Magari questa volta non succede Magari questa volta succede Magari questa volta facciamo qualcos'altro Magari questa sera esco con delle amiche E lui pensava che stessi con lui Magari stasera gli do buca Cioè i modi giusti e funzionali Sono cambiare Ok Cambiare la routine Prendete spunto da Pablo Picasso Che faceva cose Sempre diverse nei confronti di chi faceva offerte Eccetera E quindi non riuscivano a prevederlo Ora È chiaro che se tu già stai facendo qualcosa Che funziona con un uomo Non cambiare quella strategia Ma ho dubbi che Voi Facciate cose funzionali E queste cose non sono quelle che vi suggerisco Ok Quindi usa Questo stile Usa questo modo di rapportarti a lui Per far sì che possa iniziare davvero a pensare Che C'è un attaccamento E che quindi non riesce a capire che cosa vuoi davvero Seguimi qua su gli altri social Federico Picchianti In descrizione trovi il link per una consulenza conoscitiva che è tutta con me Noi ci sentiamo al prossimo Ciao